Ciao e bentornato da Carlo. Oggi parliamo degli accessori per computer. Nell'utilizzare una qualsiasi cosa fisica o virtuale che sia, puoi decidere sempre tra due o più opportunità, o di uso, di acquisto, opzioni in genere. I computer non sono da meno, infatti quando acquisti un PC normalmente lo contornerai di componenti o dispositivi non fondamentali al suo funzionamento, ma che comunque lo possono completare ottimizzando nell'utilizzo e le funzionalità. Fanno parte di questa categoria gli accessori. Oggi, sicuramente tra gli accessori più utilizzati in assoluto, compaiono le memorie di massa, costituite da tutta quella tipologia di supporti nei quali tu puoi memorizzare qualsiasi dato informatico, e anche il tappetino per il mouse. La pendrive, appunto, è la memoria di massa più utilizzata in assoluto oggi. È costituita da una custodia al cui interno è contenuta una memoria di varia capacità e la circuiteria necessaria al suo funzionamento. Leggerissima e contenuta nelle dimensioni e prezzi, è diventata quasi fondamentale per la necessità di lavoro oppure divertimento. Al suo interno possono essere memorizzati non solo documenti, foto, canzoni, video e ogni altro tipo di file digitale, ma anche programmi del tipo non install o stand alone, che non necessitano quindi di un'installazione all'interno del sistema operativo e del suo registro. In alcuni casi, infatti, sono nate delle vere e proprie suite di programmi a 360 gradi, che, memorizzate, quindi installate all'interno della chiavetta, ti permettono di eseguire più di quello che ogni utente medio possa mai immaginare di poter eseguire o conoscere nel ramo informatico. Nel bene e nel male sono diventati quasi uno status symbol e, tra l'altro, possono anche diventare oggetti regalo molto carini. Io stesso ho regalato a mia moglie un ciondolo pendrive della capacità di 8 GB di memoria, a forma di cuore, colore argento e con degli zirconi incastellati all'interno. Il prezzo di questi gadget è abbordabilissimo. Godier, però non dilla a mia moglie, d'accordo? Quali sono i pericoli? Beh, possono essere facilmente perse o rubate e, quindi, come filosofia, mai tenerne come copia unica qualsiasi dato informatico tu memorizzi all'interno. Potresti ventirtene, o peggio ancora, rischiare qualcosa di grosso se, ad esempio, memorizzi dei dati sensibili. Un'accortezza a riguardo può essere quella di criptarla, cifrarla, nasconderla, inserendo una password, oppure partizionarla, se possibile, nascondendo la partizione con i dati un po' troppo sensibili. Un altro pericolo è che le pendrive sono uno dei maggiori veicoli di virus. Infatti, un PC contaminato da virus riesce tranquillamente a diffondere il software malevolo installato al suo interno, migrando da una chiavetta ad un'altra e diffondendosi successivamente su tutti gli altri dispositivi a cui collegherai la stessa. Una contromisura è quella di proteggere la chiavetta da scrittura con programmi adeguati. Questo però va bene se devi soltanto leggere i dati al suo interno, ma se poi tu dovrai anche memorizzare i dati all'interno della stessa, dovrai comunque togliere la protezione e lasciarla quindi balia degli attacchi dei virus. Puoi sempre adottare degli artifici software che isolino il sistema operativo o controllino la chiavetta prima dell'apertura. Gutierre, non preoccuparti, seguendo il percorso diventerai ferratissimo al riguardo. Quando diventerai un dominatore di computer, potrai crearti il tuo bel kit di mastro riparatore di PC, costituito da una o più chiavette USB. Questi fatti non devono, e non lo fanno in realtà, non devono pregiudicare l'enorme vantaggio di uso di queste pendrive. Nell'utilizzo noterai tra l'altro una velocità relativamente elevata che col tempo migliorerà sempre più nel leggere e trasferire i dati da e per il computer. A Donald è vero, c'è da dire però che il fattore velocità varia da modello a modello, da computer a computer, e in base allo standard USB utilizzato dal tuo PC. Si usa la sigla USB 1.0, 1.1, 2.0 e 3.0 e così via. Altra memoria di massa diffusissima è rappresentata dalle memorie Secure Digital, OSD. Queste sono memorie trasformate in piccole schede, quelle più performanti in termini di velocità e capacità, vengono anche denominate SDHC, ossia ad alta capacità o anche a volte SD 2.0. Però non sono compatibili con i vecchi lettori, quindi lettori che non hanno la caratteristica SDHC. Altre, ancora ulteriormente più performanti, sono già in commercio. Il prezzo più importante tra queste ultime e le prime si farà però sentire. Per esplorarle necessitano di un lettore di schede. Esse sono ormai utilizzalissime in molti dispositivi mobili, come videocamere, fotocamere, cellulari, smartphone, lettori audio-video, tablet PC, ecc. La loro dimensione dipende dal modello, ma varia da poco più di un centimetro fino a poco più di tre centimetri. La capacità di memoria varia da pochi gigabyte a molti gigabyte e solo l'elevato costo di quelle con capacità maggiori sta rallentando l'esplosione d'uso. Ma anche in questo caso è solo questione di tempo. Come nota di contorno devi sapere che esistono anche degli adattatori a forma di chiavette USB che in realtà all'interno non hanno alcuna memoria. Servono soltanto per alloggiare una microSD e poterla quindi esplorare se non possiedi il lettore di schede come è stato trattato nella lezione numero 4. Esistono tra l'altro altri tipi di adattatori per schede più piccole che permettono di alloggiare ad esempio una microSD in dispositivi che utilizzano soltanto schede SD. Quindi in fase di acquisto non farti i propri problemi come feedback ti posso citare la mia esperienza in cui sto utilizzando indifferentemente schede SD e microSD con e senza adattatori di varie marche e varie capacità e comunque non ho mai avuto alcun problema. Se però dovessi forzarti nella scelta ti indicherei una microSD in quanto avresti più possibilità di utilizzarlo grazie agli adattatori. È pur vero che spenderesti una cifra un pochino più alta ma stiamo comunque parlando di poche decine di euro al massimo. Se poi utilizzi una internet key potresti inserirla al suo interno e prendere due piccioni con una fava. In realtà potresti crearti una internet key con memoria integrata. Versatilissima quindi. Ne vedrai delle belle proseguendo il percorso. Altro tipo di accessorio molto utilizzato è il tappetino per mouse che in inglese è anche denominato con il termine mousepad. È un piccolo tappeto sul quale si adagia il mouse che scorrendovi sopra permette di muovere il puntatore visualizzato sul monito del PC. Ha caratteristiche costruttive varie. Il materiale più utilizzato è in tessuto ma potrai trovarlo anche di plastica. Quando i mouse erano totalmente meccanici il movimento del puntatore era generato dalla rotazione di una piccola sfera interna. Era particolarmente importante, lo è ancora ad oggi a doner del vero, rendere tale movimento il più lineare possibile. In quanto se il mouse si spostava ma la sfera all'interno per qualsiasi motivo rimaneva bloccata, il puntatore sul monitor non riproduceva alcun movimento. Il tessuto era quindi più indicato rispetto a materiali plastici, in quanto faceva aderire e quindi rotolare meglio la sfera grazie ad un adeguato attrito fornito dal tessuto stesso. Oggi i mouse sono tutti ottici e al suo interno non si muove alcunché. È sufficiente quindi muovere il dispositivo a contatto con una superficie per riprodurre fedelmente il movimento del puntatore sul monitor. Questo per dire che il materiale con cui è costruito il tappetino non è granché determinante per la sua buona funzionalità. I mouse infatti possono eseguire il loro compito perfettamente su qualsiasi superficie piana, persino capovolti, cosa impossibile con i mouse con sfera interna. In realtà anche una superficie sconnessa, come ad esempio una mano, produce il movimento del puntatore, ma non è garantita la linearità e la continuità dello stesso. Oggi quindi il tappetino avrebbe solo una funzione estetica e di protezione del mobile della scrivania per evitare graffi o scalfiture dello strato protettivo. Si è trasformato quindi in un gadget, un'idea regalo in base alle svariate forme che può assumere oppure sulle rappresentazioni grafiche che può supportare. Ad esempio il mio personalissimo tappetino riporta stampata la foto delle mie due bambine. Il tuo, Guttler? In realtà oggi, oltre all'aspetto, alcuni produttori stanno fornendo una caratteristica produttiva per i polsi. Il prezzo di un tappetino classico parte da pochissimi euro. I tappetini meno economici presentano un poggiapolso di vario materiale per ridurre gli effetti di un abuso o uso improprio del mouse. Se hai utilizzato per molte ore il mouse, avrai certamente avvertito un fastidio o leggero dolore nella parte interna del polso. I tappetini forniti di poggiapolso, quindi, permettono di posizionare lo stesso e la mano in maniera da ridurre questo fastidioso effetto collaterale. E questo, per noi malati informatici e di internet, è veramente cosa buona. Ma comunque, non ci dobbiamo preoccupare più di tanto, perché è solo questione di tempo, affinché il mouse e quindi il suo materassino scompaiono a favore dei touchscreen. Nella prossima lezione ti parlerò di... No, Guttler, stavolta non te lo dico, lo scoprirai da solo, ma sarà una svolta nel percorso didattico. Con questo ti saluto, ciao a presto da Carlo e dalla prossima! A presto!